Buon mercoledì 28 dicembre. Il Vangelo di oggi ci porta a ripercorrere la strada della liberazione, del messaggio di salvezza che, retrodata in tempo remoto, Dio libera il suo popolo, lo fa uscire dalla terra d'Egitto, laddove il suo popolo era stato esiliato, lo libera e lo porta verso la terra promessa. Ed è una costante fuga, movimento, percorso che porta inevitabilmente a cogliere l'essenza del processo di liberazione, che il potere guarda con grande sospetto, timore, al punto da farsi omicida. Della nascita della vita all'insegna della dimensione del messaggio di salvezza che Gesù porta con sé. Gesù, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio destinato a essere perseguitato dal potere dell'uomo sulla terra. Perché quel potere del regno mondano, insano, che violenta la dignità della vita, che violenta il pianeta, ha colto che quel messaggio di salvezza è profondamente sovversivo perché è costruito intorno alla dimensione dell'amore, mentre il regno dell'uomo è costruito intorno alla dimensione dell'appropriazione e del profitto. Due posizioni radicalmente antitetiche che oggi siamo chiamati a riattraversare in un processo costantemente di liberazione che si ripete giorno per giorno. Ma vediamo il passo del Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena ritirati. Quando ecco un angelo del Signore si manifestò in sogno a Giuseppe dicendo, svegliati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché te lo dirò io. Erode infatti sta per ricercare il bambino per farlo morire. Erode, simbolo del potere, sente traballare il suo trono rispetto alla presenza che intuisce essere reale e concreta del Messia e vuole ucciderlo, vuole uccidere la dimensione della salvezza e dell'amore. Egli allora, svegliatosi, prese con sé il bambino e sua madre durante la notte e si ritirò in Egitto, là dove rimase fino alla morte di Erode affinché si compisse ciò che fu detto dal Signore per mezzo del profeta. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Vedete questo ripercorrere costante la storia attraverso queste visioni simboliche profondamente e costantemente attualizzate. Dobbiamo cogliere questo passaggio del Vangelo non come una narrazione semplice di ciò che è accaduto nel passato. Dobbiamo cogliere nella pienezza del suo significato nel qui ed ora, in questo presente. Intanto Erode, resosi conto di essere stato raggirato dai magi, ne fu assai adirato e mandò a sopprimere tutti i bambini che erano a Betlemme e in tutto il suo territorio dai due anni in giù, secondo il tempo che aveva appurato con precisione dai magi. Questa strage dei bambini, degli innocenti. I bambini sono innocenti, vengono al mondo, testimoniano la pienezza del piano di salvezza. Il potere li vuole sopprimere. Lo voleva allora e lo fa anche oggi. È insensibile nei confronti del dolore e della sofferenza dei bambini e delle bambine che vivono il dramma della guerra. Vogliono i potenti sopprimere la potenzialità della vita per fare trionfare la loro diabolica azione, finalizzata appunto a un potere assoluto, mortifero. Allora si compì ciò che fu detto per mezzo del profeta Geremia che dice una voce si è udita in Ramà, un grande pianto e lamento. È Rachele che piange i suoi figli e non ha voluto essere consolata perché non sono più pianto di isperazione e impossibilità di consolazione. È il momento buio della storia dell'uomo, della storia di ciascuno di noi, il dolore della morte. E questo è un punto fondamentale perché quante volte ci poniamo la domanda come è possibile che vi sia tanta violenza e morte precoce della vita nella figura dei bambini che scappano dalle carestie insieme ai propri genitori, che muoiono nell'attraversamento del Mediterraneo e vengono respinti alle porte di un luogo di salvezza potenziale in nome di una supremazia tirannica, insensata, esattamente rispecchiante quella visione di Erode. Ecco tutto questo ci deve profondamente fare riflettere e attraverso questa esperienza del dolore imparare giorno dopo giorno a vivere intensamente il nostro rispetto per la dignità della vita e accogliere in questo quel messaggio di salvezza che ci invita a vivere concretamente la dimensione della misericordia e dell'amore che Dio ci ha donato attraverso il suo unico figlio Gesù che muore e risorge per la nostra salvezza. Buona giornata a tutti.